Associazione che dal 1986, grazie a una rete di volontari, può vantare esperienza, capacità e competenze pluriennali nella promozione di iniziative culturali e di servizi per lo sviluppo sociale a favore dei propri associati. E allora, cosa aspetti? Corri ad iscriverti! Tutti possono accedere ai servizi offerti! Grazie a tutti!